Era una delle pop star più famose del mondo. Ma non solo cantante, ballerina, attrice, Jennifer Lopez nei primi anni 2000 era amata da tutti. Sono però passati più di vent'anni dai suoi esordi e la situazione è un po' cambiata. Benvenuti nello Spin the T dedicato a J.Lo e alla sua tragica fine. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo episodio di Spin the T with me, Cristiano Cervigni, episodio come da intro dedicato a Jennifer Lopez. Perché notizia dell'ultima ora sarebbe imminente il suo divorzio con l'attore Ben Affleck. E quindi io voglio partire insieme a voi da questa notizia, da questo gossip, per analizzare un po' la loro storia, per vedere se è vero oppure no che sono in crisi nera. E poi però vorrei addentrarmi su quello che penso che sia la fine della sua carriera. In quanto è innegabile che J.Lo, al giorno d'oggi, è una delle cantanti e una delle celebrities di Hollywood più odiate su internet. Basta fare un giro su TikTok per vedere quante persone pubblicano video contro di lei. E quindi mi sono domandato, c'è un motivo logico che ha scatenato tutta questa ira dei fan, ormai ex fan di J.Lo, contro la cantante? Oppure semplicemente è passata di moda? Ha fatto qualcosa per meritarsi tutto questo hating? Oppure sono le persone che via via prendono di mira una o l'altra celebrities per distruggerla? Andremo ad analizzare oggi tutto. Quindi mettetevi comodi, andate a prendere il vostro drink o snack preferito. Come sempre mettete mi piace a questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché siamo vicinissime ai 450.000 iscritti. Quindi probabilmente entro il 3 giugno, che vi ricordo essere il mio compleanno, possiamo fare questo obiettivo, possiamo raggiungere questo obiettivo. Conto su di voi, per favore, fatemelo come regalo di compleanno. Ma detto questo, sorso iniziale... Ah, e direi che ne abbiamo veramente bisogno perché inizierei subito dal divorzio, che potrebbe diventare il divorzio dell'anno e potrebbe anche trasformarsi in una causa milionaria di cui potremmo parlare per mesi e mesi. Praticamente qui abbiamo Ilari e Francesco, in America c'hanno J.Lo e Ben Affleck. Ma prima di analizzare la fine di questa love story, io direi di fare un piccolo passo indietro perché, se non lo sapete, ci sono qua io. J.Lo e Ben Affleck, in realtà, si sono sposati ora, due anni fa, nel 2022. Ma, venti anni prima, i due stavano insieme e quindi diciamo che abbiamo visto tutti noi millennials il matrimonio di J.Lo e Ben Affleck come una chiusura di un cerchio. Doveva andare così. I due erano predestinati. In quanto, nel lontano 2002, Jennifer Lopez e Ben Affleck si incontreranno per la prima volta sul set di un film che hanno girato insieme. Il film è chiamato, in italiano, Amore Estremo e, da questo set, inizieranno a frequentarsi e diventeranno una coppia a tutti gli effetti. J.Lo in quegli anni stava uscendo dalla storia con P. Diddy. Se non sapete che fine ha fatto P. Diddy, perché anche lui, in questi mesi, non se la sta cavando molto bene, abbiamo affrontato anche l'argomento e vi lascio, appunto, gli spill in the tea qua sotto nell'info box così potrete andare ad indagare. Fatto sta, torniamo a J.Lo e a Ben Affleck. Nel settembre 2003, quindi a un anno dal loro primo incontro, avevano annunciato il loro matrimonio. Un matrimonio che però verrà annullato a pochi giorni dalle nozze. Non sappiamo ancora per quale motivo. Fatto sta che passano pochi mesi, arriva il gennaio del 2004 e i due ufficializzeranno la loro prima rottura. Al 2004 poi voliamo, al 2021, quando sono stati paparazzati per la prima volta, limonare in una palestra a Miami, da cui tutti i fan sono esplosi di gioia perché hanno riniziato a credere nell'amore, anche perché i due, poco tempo dopo, hanno riufficializzato per la seconda volta il loro ritrovato amore. Amore, questa volta sbocciato, con il matrimonio nel 2022. Già però, un anno dopo, siamo all'anno scorso, quindi 2023, iniziano le prime voci di una rottura o comunque di una crisi tra i due. Voci che non si sono mai fermate fino al giorno d'oggi, in cui si fanno sempre più insistenti questi gossip di un divorzio imminente tra J.Lo e Ben Affleck. In quanto andiamo a prendere gli ultimi articoli in America. US Weekly ha intervistato una fonte vicina ai due, ovviamente rimasta anonima, che avrebbe rivelato appunto che tra i due ci sarebbe una grossa crisi, dicendo questo. Jen e Ben hanno problemi all'interno del loro matrimonio. Questa crisi è cominciata qualche mese fa, quando lei ha iniziato a infoltrire la sua agenda di impegni in vista del tour This Is Me Now, a Love Story, che comincerà il mese prossimo. Loro viaggiano su binari paralleli, per quanto riguarda il matrimonio, perché lei è molto presa dal lavoro e non si fa certo tarpare le ali da lui, che invece è molto più introverso. Quindi, secondo questa prima fonte, i due sarebbero in crisi perché non si trovano, nel senso, lei vuole sempre lavorare, lei pensa al lavoro, lei pensa a tutti i suoi impegni, mentre lui vorrebbe godersi un po' la vita matrimoniale, vorrebbe dirgli, guarda, take it easy, un po' di relax, stiamo un po' insieme, non c'è bisogno di barcamenarti di lavoro. Ma, ragazzi, quando siamo delle celebrities, anzi, quando sono delle celebrities di quel calibro, ovviamente devi stare attento a tutti i tuoi amici, perché un'altra fonte, sempre anonima, ma sempre dichiarata vicina alla coppia, dichiarerà a un altro giornale, e in questo caso parlo del magazine In Touch, che i due è vero che sono in crisi, ma in realtà starebbero facendo una terapia di coppia, per cercare di salvare il salvabile, e dice questo, infatti. Ben crede nella terapia fino a un certo punto, ma è disposto a farla per cercare di salvare il matrimonio, anche se non sopporta di sentirsi umiliato. Lui, comunque, è una persona molto tollerante e paziente. Cosa succede? Oltre a tutte queste dichiarazioni, inizia il tantammo del gossip tra i vari fan della coppia, che quindi si fa sempre più insistente la voce che sia Ben Affleck a volere il divorzio, in quanto non ce la fa più di tutti questi atteggiamenti da diva di J.Lo. In più, anche loro ci mettono del suo, in quanto Jennifer Lopez è vista sempre più spesso in compagnia della sua assistente, in giro per Los Angeles a guardare delle altre case, e, sempre più insistente, si fa la voce che vorrebbe Ben Affleck non abitare più nella mastodontica villa che hanno appena comprato per viverci insieme, al costo di ben 60 milioni di dollari. E si dice che questa villa sia stato un problema trovarla, ma non certo per il prezzo, ma semplicemente perché, appunto, J.Lo, con questi atteggiamenti da diva, non riusciva a farsi andare bene nessuna delle case che stavano guardando, in quanto non gliene garbava neanche una. Però, alla fine l'hanno trovata, ma, alla fine, evidentemente, qualcosa è andato male. A Tostà, ragazzi, io vi sto parlando, che potrebbe essere una causa di divorzio super in America, in quanto i due non è che se la passano comunque male, anche perché, ovviamente, hanno fatto i conti in tasca alle due celebrità. Il patrimonio di Jennifer Lopez, infatti, è stimato 400 milioni di dollari, mentre un po' più risicato sarebbe quello di Ben Affleck, che ammonterebbe a 29,8 milioni, secondo Forbes. Chissà, magari, se hanno fatto un prematrimoniale, oppure no. Comunque, oh, 400 milioni di dollari, mi piacerebbe anche a me. Piange in un cavo con tutti quei soldi, anche se da solo. Fatto sta, ragazzi, ragazzi, questa è la notizia ufficiale. Ok, in questi mesi, ma maggiormente in questi giorni, si fa sempre più insistente la notizia, anche qua in Italia, del divorzio tra i due. Ma, da questa notizia, sono scaturiti molteplici video sui social di persone che, comunque, parlano male di JLo. E quindi è per questo che io ho fatto uno studio, un po', tramite vari articoli che ho trovato, per cercare di collegare un po' i punti del perché Jennifer Lopez, nel 2024, è, secondo me, secondo quello che ho visto, la celebrità più odiata del mondo. Com'è possibile che il regno di ghiaccio, a questo punto, oserei dire, di JLo, si stia frantumando letteralmente tra le sue mani? Per tutti i giovinciuelli che non hanno vissuto l'epoca d'oro di JLo, sono qua io in vostro soccorso, perché io JLo praticamente l'ho amata negli anni 2000, in quanto lei era già un'attrice negli anni 90, ma nel 1999 debutta anche sul mercato discografico con la canzone If You Had My Love, che è una delle mie prefe di lei. Ovviamente il successo fu inarrestabile, fu solo l'inizio, anche perché poi, fino, oserei dire, il 2004, su Perjoo, ci fu un susseguirsi di mega successi. Love Don't Cost A Thing, Play, Jenny From The Block, e parallelamente ai successi discografici, JLo fece anche tantissimi film, commedie romantiche, che fecero il pieno al box office. In quegli anni non si faceva altro che parlare di Jennifer Lopez, ragazzi, anche perché fu una delle primissime artiste latino-americane a riuscire a sfondare nel mercato americano, e quindi fu presa anche come modello, no? Per le minoranze dell'epoca, e soprattutto lei ci ha anche giocato molto sulle sue umili origini, proprio perché ha basato il suo successo sull'essere sempre la ragazza del Bronx, dei quartieri poveri di New York, che però è riuscita a farcela. Jenny From The Block, I'm still, I'm still Jenny From The Block, che sarebbe appunto la canzone che ha dedicato alle sue origini. Per esempio il suo primo album, che è chiamato On The Six, mi sembra che l'abbia chiamato così proprio perché era la linea della metropolitana che collega Manhattan al Bronx, e che era appunto la metro che lei prendeva molto spesso. Brava JLo! Cioè, le persone dovrebbero essere super contenti che una è partita dal nulla ed è riuscita a diventare la grande pop star e la grande celebrity che è diventata JLo. Ma che cosa è cambiato negli anni? Perché tutto questo meccanismo anno dopo anno ha iniziato a scricchiolare, ha iniziato un po' a non andare più bene alle persone e se fino a qualche anno fa erano comunque degli haters che hanno tutti, la shitstorm ufficiale è avvenuta proprio quest'anno, in quanto è uscito il suo nuovo album, This Is Me Now, ok? che è stato pubblicato in concomitanza con il suo film documentario video musicale, chiamatelo come volete, quello su Amazon Prime, chiamato This Is Me Now, A Love Story. Allora, l'album nuovo ha debuttato tipo 38esimo in classifica, che è stato il più grande flop di JLo, ma anche dell'anno, mentre il film documentario in realtà è stato visto dai fan, ma diciamo che non è stato molto apprezzato, in quanto si vede una JLo un po' stucchevole, un po' falsa. Per di più, anche tutte le recensioni sono state negative e, dulcis in fundo, varie clip di questo film sono state prese e pubblicate su TikTok a mo' di sfottò. Ce n'è una in particolare che è diventata virale, che è stato l'inizio, secondo me, della fine di Jennifer Lopez nel 2024, in quanto in questa clip si vede lei che è in una palestra, penso di casa sua, che si scioglie i capelli e dice questo mi piace slegarmi i capelli in questo modo. Mi ricorda quando avevo 16 anni nel Bronx e correvo su e giù per l'isolato. Una ragazzina pazza e fottutamente selvaggia, nessun limite e tanti sogni. Allora, questa clip è presa così, non sa di nulla, nel senso, io l'ho visto, vabbè, si ricorda l'infanzia, si ricorda l'adolescenza, un lopo' di che c'è di strano. Ecco, praticamente è stato il capo espiratorio per l'inizio della shitstorm assurda che sta avendo J-Lo in quanto i veri abitanti del Bronx si sono un po' rivoltati contro di lei dicendo che questa sua narrazione delle sue umili origini delle sue origini appunto del Bronx ha stuccato, ha rotto i maroni anche perché ormai del Bronx della ragazza che lei era quando era una ragazzina al giorno d'oggi non è rimasta più nulla anche perché ormai c'ha i milioni ormai nel Bronx non c'è più tornata il suo stile di vita fa capire tutto ma assolutissimamente ci fa percepire che non c'è rimasto più niente di umile in lei i suoi atteggiamenti da diva che quasi ogni settimana sono su tutti i giornali diciamo che hanno un po' fatto arrabbiare gli abitanti del Bronx che hanno deciso di parlare forti anche del fatto che adesso con TikTok ti basta fare un video e diventi virale e parli male di una celebrità insomma il web è pieno di persone che fanno video contro Jennifer Lopez che la colpevolizzano di usare le sue umili origini di usare il Bronx soltanto per monetizzare soltanto per far arrivare il messaggio che lei comunque è sempre umile che lei comunque ricorda sempre le sue origini ma in realtà secondo gli haters questa narrazione come vi ho già detto ha stufato perché non gli è rimasto nulla di quella che era in più le persone dicono che Jennifer Lopez mente parlando della sua adolescenza nel Bronx perché hanno parlato per esempio dei suoi compagni di classe che hanno detto che non è vero che lei faceva in su e in giù perché comunque frequentava una scuola vicinissimo casa sua e quindi ci andava a piedi hanno parlato anche del fatto che lei durante un'intervista mi sembra quella a Vogue che andava di moda un po' di anni fa che Vogue pubblicava qua su YouTube le interviste a casa delle celebrities che nel mentre che chiacchieravano e rispondevano alle 75 domande poste dal giornalista facevano vedere un po' la casa prendevano il caffè insomma flexavano il loro successo insomma durante questa intervista c'è una domanda che viene rivolta a JLo che gli diceva ma qual era il tuo ordine in una bottega di alimentari gestita da latini e lei dice beh praticamente io prendevo sempre il panino con prosciutto e formaggio e le persone hanno ripreso questa clip dicendo raga è impossibile una cosa del genere perché chiunque sia veramente di New York e provenga dal Bronx sa benissimo che lei ha mentito perché non puoi andare in questi alimentari e chiedere un semplice panino con prosciutto e formaggio perché ti guardano come se tu fossi pazza perché vogliono molte più informazioni e quindi credono le persone che JLo in realtà non ci andava in questi alimentari e che quindi si sia inventata tutta questa storia ma ovviamente siamo solo all'inizio perché adesso parliamo degli atteggiamenti da diva che sempre più spesso sono sulla bocca di tutti e se negli anni 2000 questi atteggiamenti erano anche ben visti perché comunque vabbè era una diva e tutti se la facevano andare bene gli anni sono cambiati gli anni sono passati e adesso tutte queste voci tutte queste notizie diciamo che non vanno molto a genio a quelli che erano i fan di JLo per esempio leggenda metropolitana che non sappiamo se è vero vuole JLo licenziare i suoi collaboratori che osano guardarla negli occhi madonna vi immaginate voi che lavorate come assistente per esempio di JLo e non potete assolutissimamente mai guardarla negli occhi cioè stare sempre così perché se no vi licenzia siamo pazziti io spero che questa sia una voce di corridoio una leggenda metropolitana ma comunque è una notizia che esce molto spesso come si moltiplicano le testimonianze che vogliono JLo avere atteggiamenti molto cattivi verso le persone con cui lavora le notizie che lei in realtà sia una diva capricciosa che ha delle richieste assurde ogni qualvolta che deve andare ospite in uno o l'altro show sono all'ordine del giorno praticamente l'isover party di JLo per quanto riguarda il suo essere diva è il fatto che è una diva cattiva che però davanti le telecamere si trasforma in un finto agnellino umile che proviene appunto dai bassi fondi quando la realtà è molto diversa ma ragazzi come se non bastasse questo è soltanto diciamo la punta dell'iceberg perché ok ci può stare è antepatia però comunque io la seguo per la sua musica ok ecco sono anni che c'è anche una critica per quanto riguarda la sua musica in quanto lei sarebbe colpevole non solo di aver rubato la musica di altre artiste ma addirittura di usare la voce di altri cantanti nelle sue canzoni e quindi siccome questa è una voce che io sento da anni da quando ero ragazzino voglio fare il punto della situazione una volta per tutte per cercare di capire bene cosa voglian di queste voci siete pronte per l'epoca della reputazione di JLo? no ancora no allora punto numero uno io vi ho detto a inizio video che la sua prima canzone fu If You Had My Love del 1999 JLo infatti fu scoperta da quello che è ormai l'ex presidente della Sony chiamato Tommy Mottola o Mottola che in quegli anni era il marito di Mariah Carey ricordatevi di Mariah Carey perché parleremo anche di lei insomma scoperta da Tommy Mottola fa debuttare sul mercato discografico con If You Had My Love ma questa prima canzone a quanto pare sarebbe diciamo una scopiazzatura di una canzone uscita un anno prima quindi siamo nel 1998 e vi vado a leggere per chi non la conosco il titolo della canzone sarebbe If I Gave Love e è cantata da Shanté Moore ora io non la conosco però effettivamente andate anche qui su YouTube e vi guardate e vi ascoltate le due canzoni sono abbastanza simili vuoi perché entrambi i brani sono stati scritti e prodotti dalla stessa persona che è Rodney Jerkins vuoi perché si dice che all'epoca il fidanzato di Jennifer Lopez che era P. Diddy ha diciamo fatto pressioni sul produttore perché voleva una canzone molto simile a questa insomma o le canzoni comunque sono simili e in questo caso anche se Jennifer Lopez penso non ci entri nulla e quindi dobbiamo dar la colpa ai produttori a P. Diddy a Tommy Mottola insomma a chi di dovere comunque il viso ce l'ha messa lei la voce ce l'ha messa lei oppure no quanto riguarda infatti le canzoni successive praticamente c'è stata la super polemica che è attuale ancora oggi che vuole Jennifer Lopez prendere i sample prendere le demo registrate da altre cantanti e usarle nelle sue canzoni ma non solo negli album ma anche durante i live e sto parlando di due cantanti in particolari Christina Milian e Ashanti queste due cantanti anche loro erano dei primi anni duemila e erano super popolari all'epoca e effettivamente hanno una voce molto simile a J.Lo e se di Christina Milian non ho trovato particolari cose ma possiamo sentire la sua voce nella canzone play di J.Lo per quanto riguarda Shanti la situazione cambia perché la stessa Shanti ha parlato e ha detto la sua riguardante l'uso delle sue vocalità per quanto riguarda la canzone I'm Real e I'm Real diciamo che è nell'occhio del ciclone anche per un'altra cosa di cui parliamo dopo in poche parole che succede? quando una cantante fa uscire la canzone molto probabilmente se non l'ha scritta lei questa canzone prima di lei viene fatta registrare come demo anche da altre cantanti e poi alla fine c'è chi la prende c'è chi dice no io non la voglio per esempio Telephone di Lady Gaga con Beyoncé fu inizialmente offerta a Britney Spears tant'è che la stessa Britney Spears ha fatto una demo e circola anche quella qua su YouTube Umbrella avete presente la canzone When the Sun Show We'll Shine Together di Rihanna che l'ha fatta esplode in tutto il mondo bene voi forse non lo sapete ma inizialmente fu offerta a Britney Spears e Britney Spears la rifiutò e quindi soltanto dopo il rifiuto di Britney fu poi presentata a Rihanna che poi l'ha fatta diventare il successo mondiale che è insomma è una cosa all'ordine del giorno il registrare demo di canzoni che poi non sono tua bene Ashanti e Christina Milian avevano registrato le demo in questo caso di Play e di I'm Real la cosa che però ha appunto destato tutte queste critiche è il fatto che Jennifer Lopez durante la sua sessione di registrazione di queste canzoni avrebbe mentito in quanto ok per la maggior parte della canzone ci sarebbe lei che canta ma siccome la voce di Ashanti la voce di Christina Milian è molto simile a quella di J.Lo avrebbero avrebbero estrapolato dalle loro demo dei pezzi e l'avrebbero aggiunte nella canzone finale di J.Lo che dovevano essere inizialmente tipo i cori però c'è chi giura e sper giura di sentire la voce di Ashanti e la voce di Christina Milian anche nelle singole strofe e siccome vi dico che questa polemica c'è da anni minimo una decina la stessa Ashanti ha detto questo in un'intervista rilasciata nel 2014 dichiarerà queste parole ho fatto una demo per il disco di Jennifer hanno mantenuto alcune parti improvvisazioni e cose del genere è stato divertente era davvero ero davvero emozionata perché il brano era per J.Lo ero anche un po' arrabbiata perché volevo tenermi quel pezzo ma allo stesso tempo felice perché l'aveva cantato lei c'è anche da dire che né lei né Christina Milian hanno mai denunciato no? la cosa e quindi probabilmente come ha come ha anche dichiarato è andato bene così però raga se sei una cantante esce fuori una cosa del genere è normale che l'odio ti arriva e quindi in tantissimi hanno iniziato a puntare il dito verso Jennifer Lopez in quegli anni dicendo che in realtà non canta lei le sue canzoni dicendo che in realtà usava la voce di Ashanti soprattutto ma anche di Christina Milian un casino raga e adesso torniamo a parlare di Tommy Mottola e di Mariah Carey come le avevo preannunciato perché come se non bastasse il 2001 2002 Mariah Carey e Tommy Mottola si separano e quindi divorziano a questo punto Tommy Mottola che era non solo il marito di Mariah ma era anche il presidente della sua casa discografica fa di tutto per boicottarla diciamo che i primi anni 2000 sono gli anni bui di Mariah Carey in quanto lei ha dovuto cambiare casa discografica ma nonostante questo la potenza dell'ex marito era grandissima l'influenza era molta e si dice che tutto era pronto per l'uscita di una nuova canzone di Mariah Carey che è Lover Boy canzone sua del 2002 ma in realtà il ritmo non sarebbe quello che è poi uscito lei aveva pensato di fare un sample con la canzone ve la vado a leggere perché non la conosco Firecracker di Yellow Music Orchestra cosa è successo? siccome il marito ormai ex evidentemente non ha preso molto bene questo divorzio per boicottarla ha fatto uscire prima la canzone di Jennifer Lopez I'm Real con lo stesso sample tant'è che Mariah Carey è dovuta correre ai ripari e cambiare la base della sua canzone perché l'aveva già fatta uscire Jennifer Lopez e si dice che questo fu l'inizio anche della guerra tra le due dive quello che porterà poi Mariah a rispondere alla domanda della giornalista I don't know her che è poi diventato un meme super virale insomma raga questi sono gossip un po' così no che ci fanno compagnia che ci fanno parlare il fatto però che JLo non è più considerata una super celebrity lo possiamo toccare con mano perché il suo tour che partirà a breve ha dovuto cancellare tantissime tappe perché i biglietti non si vendono l'album Megaflop il film Megaflop l'unica cosa di successo che ha fatto ultimamente è il film Modern mi sembra che si chiami così perché l'ho visto su Netflix e quello mi è piaciuto molto però per quanto riguarda la musica lei ormai diciamo che oltre al fatto che è molto odiata per i suoi atteggiamenti da diva per il fatto che si dice che abbia rubato la musica agli altri artisti e che abbia fatto successo soprattutto sfruttando il un quartiere povero di New York lei diciamo che non è non è stata al passo è una di quelle artiste che vendeva tantissimi dischi fisici ma che con l'arrivo dello streaming non è riuscita a conquistare i più giovani e quindi è stata fatta fuori dalle classifiche mettici poi il presunto nuovo divorzio con Ben Affleck con paparazzate di Ben Affleck che si vede che quando è in sua compagnia sembra un po' scazzato sembra un po' triste sembra un po' arrabbiato mettici poi anche tutti i video di persone che dicono di aver avuto a che fare con lei e che lei in realtà è una bestia di satana diciamo che siamo di fronte ad una carriera in pieno declino c'è anche da dire che potrebbe benissimo starsene a casa non far nulla perché con un patrimonio netto stimato 400 milioni ok puoi piangere perché una che è abituata ad avere sempre successo e ad avere tutto l'ecocentrismo raga fa parte delle celebrities però piangerà lo stesso nella sua megavilla da 60 milioni insomma ragazzi questa è la triste storia di come sembrerebbe finita la carriera di Jennifer Lopez fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate se anche voi siete dell'idea che adesso non solo non va più di moda ma potrebbe andare in pensione e se soprattutto anche voi negli anni 2000 la seguivate tantissimo perché io non ho voluto parlare perché era una delle artiste c'era lei Britney Spears e Shakira nei primi anni 2000 che mi piacevano tantissimo e Avril Lavigno madonna le amavo io sono cresciuto con loro e quindi questo fatto che sono passate dall'essere top all'essere un po' meno così o addirittura nel caso di JLo adesso è proprio una delle celebrities più odiate del mondo cioè un po' mi è dispiaciuto però chi la fa l'aspetti se ci sono tutte queste testimonianze contro di lei effettivamente evidentemente probabilmente il suo modo da diva potrebbe avergli messo bastoni tra le ruote detto questo se avete anche altre notizie riguardanti JLo fatemelo sapere qua sotto tramite commento per oggi è tutto ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao ricordatevi di mettere like e di iscrivervi